Un cinquantenne della provincia di Avellino è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a filmare alcune minorenni a Parco Santo Spirito. I carabinieri si sono portati sul posto dopo la segnalazione telefonica da parte di un cittadino, particolarmente inquietante quanto accertato dai militari dell'arma. L'uomo aveva effettivamente iniziato a filmare due ragazzine che si trovavano tranquillamente sedute su una panchina, ma queste ultime resi, si conto di quanto stava accadendo terrorizzate, si sono allontanate ma sono state pedinate. In preda al panico hanno chiesto aiuto da alcuni passanti che hanno immediatamente informato i carabinieri che sono riusciti a bloccare e a identificare l'uomo accompagnandolo in caserma. I militari sono riusciti a recuperare i filmati salvati sullo smartphone del cinquantenne in cui venivano ritratte le due minorenni, scoprendo pure che vi fossero decine di altri video registrati nei giorni scorsi sempre a Parco Santo Spirito che ritraevano donne di ogni età e coppie che si erano appartate per poter vivere la loro intimità. Gli elementi raccolti hanno fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica mentre lo smartphone è stato sottoposto a sequestro.